salve brava gente eccoci ancora qua ritrovati su Destron Empire e oggi parliamo del GX101 dai Tetsujin OneSebun desu ma ormai qua in Giappone l'hanno recensito in molti OTAFA per primo le recensione di OTAFA bastano perché sono veramente molto esaudienti ma comunque adesso oggi farò un unboxing molto semplice perché questo OneSebun è piccolino piccolo ma fracà come si dice nel senso che pieno di gimmick è un piccolo gioiello che Bandai ci ha regalato regalato mica tanto perché cazzo lo paghi costa anche tantino eh beh innanzitutto siamo contenti che vediamo la sigla GX101 per cui almeno i GX non si sono fermati al 100 c'è chi eh aveva questo timore no per fortuna sono andati almeno al 101 eh vediamo qua il nostro OneSebun la sua allora beh questi i robot di Tuxaz in generale sono abbastanza scatolosi come design perché ovviamente ai tempi c'era un attore che entrava dentro il robot e lo muoveva per cui è ovvio che sono scatolosi e poi erano robe che pesavano qualcosa come 30-40 kg per cui gli attori che facevano ma ai tempi del OneSebun forse erano più leggeri ai tempi del Giant Robo dei propri Tuxaz quelli più vecchi si parlava di robe che veramente pesavano come dei macigni per cui si muovevano anche in maniera molto più robotica nel senso molto più goffa andando avanti con gli anni con gli anni probabilmente hanno alleggerito questi particolari non so come dirle vestiti mute eccetera dove gli attori entravano permettendo di fare movimenti più movimenti più liberi ecco e comunque questo è perché questi robot dei Tuxaz hanno livret così se vogliamo scatolosi a molti non piacciono a me non dispiacciono poi vediamo qua perché OneSebun ha la peculiarità di avere due modalità tre modalità scusatemi la prima è la base e la seconda la versione volante la versione aereo che uno dice ma dov'è che è differente no è solamente la parte qua sopra come faccia volare un affare simile non lo so ma va bene ma va bene non andiamo a trovare il cavillo dell'uovo se si dice così adesso non mi ricordo e comunque questo OneSebun è veramente è piccolino purtroppo è una cosa che hanno criticato abbastanza doveva essere un filino più alto però è veramente un gioiello perché è pieno di gimmick queste magari le vedremo nella mia prossima nella recensione ufficiale dove le provo un po' tutte perché proprio brillano gli occhi ha un sacco di voci suoni eccetera la differenza del drago spaziale che è grande grosso ciula no ma è grande grosso c'ha l'autoparlante bello visibile sulle sulle zampe però ti fa solamente la sigla iniziale e quella finale questo no è una cosa completamente diversa ha tutti i vari suoi meca che essendo già piccolino lui dovete stare attento che sono microscopici e che non finiscono nell'aspirapolvere ah il mio bazora del GX05 è spuntato fuori per cui non è stato vittima dell'aspirapolvere io temevo invece no per fortuna e qua abbiamo qua di fianco è questa immagine che è l'immagine più rappresentativa di OneSebun è proprio dice alzati OneSebun è una delle frasi più famose della sigla di OneSebun perché lui è sempre in versione base e qua è quando si trasforma in versione robot praticamente è inginocchiato se vogliamo si alza e non è niente di così difficile e poi abbiamo qua la parte alta della scatola io ho misurato ma innanzitutto vediamo un po' le dimensioni della scatola tranquillamente così quindi sono 15 cm per 8 per quant'è che sono 25 per cui abbiamo delle dimensioni molto molto diciamo amiche per chi come me non ha molto spazio sono dimensioni simili alla scatola del Dayleon io le adoro le scatole così compatte scatoloni enormi che poi le apri veramente c'è dentro un affare che è un ventesimo come le scatole dei Metal Build mi fanno veramente girare i balli ogni tanto e vabbè sono ottime e il peso l'ho misurato prima sono 650 grammi come scatola essendo una figura piccola diciamo che è abbastanza veramente piccola ma fracà ok adesso vediamo di aprirla come dice Asso si aprono dal basso apriamo e vediamoci il nostro 1-7 e vediamoci il 1-7 Sì, sì. Abbiamo aperto il nostro One 7, innanzitutto come abbiamo visto prima abbiamo questi due blister che non sono tenuti dallo scotch, per fortuna è una grandissima figata questi blister di Bandai che non hanno bisogno di essere scocciati. Ragazzi ogni volta lo devi riscocciare non finisce più per me è una particolare così molto minuto ma a me fa molto piacere poi abbiamo questo volantino del One 8 preorder now One 8 come dice il giornalista l'uomo di latta costa 11.000 yen è in preordine c'è un prezzo diciamo che ci ricorda molto i vecchi Chogokin quando non avevano ancora prezzi astronomici. Tra l'altro adesso quello yen che sta crollando nei mercati internazionali per chi vuole comprare roba giapponese adesso effettivamente riesce a muoversi in maniera più facile che una volta anche specialmente quando il Giappone aprirà le porte ai turisti sarà molto più facile viaggiare in Giappone e per i giapponesi invece è molto più difficile viaggiare all'estero. Infatti sento chi va alle Hawaii adesso chi se lo può permettere non sono mai stato alle Hawaii ma devo dire che non me ne frega neanche più di tanto vabbè lasciamo perdere. E comunque spende un sacco di soldi non ho mai visto una vita così cara ma per la semplice ragione che lo yen è crollato ecco. Vabbè questo è il one eight e tra l'altro la proposta del one eight e ho chiesto a un mio amico gli faccio ma quanto venderà io l'ho ordinato ma quanto venderà fa no no il one eight è fuori dal Giappone specialmente a Hong Kong è molto popolare. Ma come è molto popolare? Sì perché nella vecchia Hong Kong dove c'erano anche penso addirittura prima che tornasse la Cina dove c'erano proprio i negozi clandestini dove le fabbriche clandestine dove si facevano l'oro come trasforma il third party adesso no i giocattoli senza licenza. C'erano una pletora di one eight e c'erano anche addirittura i jumbo machinder di one eight perché la gente di Hong Kong ha un debole per la storia dei fratelli specialmente dei robo fratelli eccetera anche Kyo Dain è molto famosa a Hong Kong e anche questo one eight che è il fratello di one seven è molto molto popolare molto amato a Hong Kong per cui venderà tantissimo lì probabilmente. Ecco scusatemi l'intero mezzo e poi abbiamo il nostro libretto di istruzioni più libretto spiegativo dei cos'è one seven? One seven in Giappone è abbastanza famoso è una visione di spiegazioni è il robot che viene pilotato da un pirla con la cravatta perché è abbastanza famoso scusate io odio le cravate. Abbiamo il disegno qua sotto dei vecchi giocattoli vediamo anche e questo scese e prese dal telefilm one seven in versione robot volante in versione base con in versione base vedete che dai piedi dai piedoni piedone in africano escono i vari mecha e io le adoro le adoro le adoro queste immagini qua cacchio con one eight one seven scusatemi nella base le illustrazioni dei vecchi giocattoli a me fanno impazzire si combatte con questo robot nemico che c'è uno scaldabagno in testa scaldabagnus f2 vediamo qua così bellissimo con anche questo che sembra il cosmo roller del diaclone e poi passiamo e dalla metà proprio giustamente dalla metà perché qua ci abbiamo le graffette in poi diventa un libretto delle istruzioni a colori abbastanza comprensibile che ti spiega tutte le varie gimmick ne ha molte e come come poterlo fare trasformare qua mi ricorda molto la trasformazione dei seekers dei gettoron dei masterpiece transformer quelli vecchi adesso non so come si trasforma quello nuovo lo starscream nuovo perché non ce l'ho e non mi interessa neanche ok così bene bene poi questo magari lo vediamo nella recensione più avanti che farò e adesso passiamo a vedere il nostro one seven magari a confrontarlo anche con dai leoni ok adesso abbiamo aperto la scatola tirato fuori i nostri mecha e vediamo per prima cosa i nostri come si chiama sub mecha e le parti che troviamo dentro la scatola abbiamo solamente altre due mani che sono due mani aperte mentre le mani che ha one seven dentro la scatola sono due pugni e basta per cui non ha armi non ha nient'altro quello è molto semplice poi abbiamo quattro mini mecha che sono la sub machine in due versioni la versione è automobile che è questa prima le ho misurate ragazzi sono due centimetri di lunghezza questi sub mecha per cui attenti all'aspirapolvere e comunque sono fatte veramente da dio come vedete c'è proprio il design fin gli anni 70 iniziano 80 che a me fanno impazzire questo design qua e questa è la versione della sub machine la versione volante tipo aereo elicottero bellissime solamente dico cacchio bandai un attimino più grosse se facevano tutto un filino più grosso magari questo non erano due centimetri erano magari tre uno se le poteva godere un secondo anche di più poi lo shig kong jet questo veramente anni 70 anche fine anni 60 se vogliamo come design e poi è bellissimo il shig kong tank che forse è il mini mecha che mi piace di più col suo bel trivellone veramente da anni 60 tipo thunderbird o comunque anni di anime degli anni 70 bellissimo e poi abbiamo la nostra unità il cuore di one seven che è il graviton unit con dentro abbiamo dentro tre pile sono già dentro e se uno tira fuori qua il come si chiama l'affare qua isolante può godersi tutte le gimmick sono molto complesse poi magari farò una ripeto faccio un video apposta solamente per questo ok andiamo a tirare fuori il nostro one seven adesso ed ecco qua il protagonista di oggi one seven c'è solamente lui quel pirla con la cravatta che lo pilota non c'è per fortuna e come size come misura andiamo a vederci un attimo sono 18 centimetri scarsi e sono 17 e mezzo ve lo dico subito a tenere in mano è un macigno un piccolo macigno e adesso andiamo a vederci anche il peso ragazzi è un affare qua piccolino ma si parla di 423 grammi per cui veramente torniamo al discorso di prima piccolo ma fracà è veramente tosto sta a fare qua adesso vediamo un po' il tuo scalpito qua da vicino quando lo tirate fuori dalla scatola la testa non è aperta per cui gli occhi sono chiusi dovete tirarla su così è semplicissimo e qua si aprirà la visiera per vedere far vedere gli occhi di one seven che è una specie di computer che brilla fa dei movimenti strani ma molto particolare come come scalp del viso come robot e poi abbiamo la nostra scritta bella grossa one seven eccetera eccetera questo bel colore rosso blu proprio da da robot buono tipico e poi dietro abbiamo le nostre ali con tanto qua di antenna per la per la versione in volo e poi abbiamo anche questa parte qua dietro del lo scalp della testa che ricordo molto un po gli occhi che fa fa molto da computer di vecchi film di fantascienza ecco attento ecco quando la maneggiate proprio perché anche maneggiandolo così pensando solamente la parte del davanti è andato comunque a toccare queste ali che sono veramente molto molto fragili per questo attenti bello davvero come scalp e poi ragazzi è tutto metallo le gambe sono tutte in metallo il torso è tutto in metallo c'è veramente sembra di avere in mano uno dei vecchi chowokin non di chowokin di adesso non per un esempio capibile il drago spaziale che dovrebbe essere un chowokin e invece in realtà è una specie di jabbo machine no questo è veramente in metallo il è pieno di gimmick che magari lo vedremo in uno dei miei prossimi video però ai suoi però innanzitutto questo one seven ha venduto molto in giappone cioè è da tanto tempo che vedo un chowokin che ha il prezzo che va sopra guardando amazon per esempio si rincara dopo il preorder fino adesso tu ti compravi io ricordo con l'amazon l'arc col col getter arc comprato su amazon non l'amazon arc ho fatto una cosa ho unito le due cose l'amazon arc change amazon arc no il getter arc l'ho comprato per 15.000 yen e adesso te lo tirano dietro neanche per 10.000 tra poco e sono quelle cose che ti fanno un po' incazzare così anche per il drago spaziale che anche te lo tirano dietro anche quello adesso qua invece no perché l'ho pagato sui 16.000 17.000 yen adesso è ancora più caro stiamo andando anche sui 20.000 yen che se vogliamo come prezzo è un po' altino per un robot di queste dimensioni però sta vendendo per fortuna ecco benissimo adesso guardiamo un po' i movimenti le giunture di questo one seven e che sono veramente la sua nota dolente se uno pensa di fargli fare un po' di pose plastiche smalettarsene un po' eccetera gli dico subito non è il robot che fa per te perché? perché ha delle range di movimento veramente molto molto limitato innanzitutto se voi guardate qua le spalle nelle cose delle illustrazioni delle istruzioni vedete qua state attenti qua per quanto riguarda le spalle allora i movimenti del braccio ha delle raccette dentro molto molto solidi sentite anche il rumore come gomito 90 gradi anzi può anche muoversi all'indietro fa male solamente a vedersi proprio così anche all'indietro il problema è che aprire le spalle è praticamente impossibile potete però diventa veramente un po' un macello e poi c'è scritto lì attenzione che a non graffiarlo probabilmente c'è il modo adesso di tirarlo fuori di più qua però adesso non sto più di tanto a farlo c'è sicuramente il modo di tirarlo fuori di più ma non è brutto perché la spalla qua e il corpo cozzano e le spalle essendo in plastica rischiate di far partire la verniciatura qua per quanto riguarda le gambe le gambe sono un'altra nota dolente perché sono una nota dolente perché vabbè si muove perché poi si trasforma in base per cui si muove al bene così non abbiamo un range di movimento discreto anche qua avanti il problema grosso è che se uno vuole prendere una posa non da giocattolo di 20-30 anni fa ma un po' più moderna un po' più naturale dovrebbe aprire le gambe ma può farlo solamente così cioè non abbiamo scatti alternativi e questa secondo me è una cosa veramente brutta perché scatti così bruschi insomma per un affare che comunque costa avrei preferito uno scatto in mezzo anche cosa che purtroppo non c'è ovviamente il torso qua non si muove avrei preferito uno scatto in mezzo uno scatto in mezzo non esiste per questo se volete aprirgli un po' le gambe per fare una posa più plastica diventa così e io non la trovo una cosa molto bella specialmente per un toys che ha i prezzi questo one semi poi potete anche tirare un po' fuori i piedi così le caviglie si ruotano un po' però ripeto insomma non è non è bellissima come posa l'unica cosa sarebbe di rimetterlo le gambe praticamente ottenerlo così ma però viene un po' o se non chiudigli le gambe e cercare di ruotare quale qua le gambe così e non so ripeto per quanto riguarda la posabilità è una nota dolente di questo one seven e su questo va detto alla fine adesso che ripeto ha le gambe ai piedi tirati un po' in fuori per cui adesso dovrebbe essere un centimetro quasi più alto proviamo a confrontarlo con l'altro capolavoro dei tokusatsu che a me piace di più devo essere sincero e cioè il Dileon già e questo è il nostro Dileon vedete che il Dileon comunque è più grosso un attimino di più di questo one seven come colorazione come scalp è veramente questione di gusti io preferisco di gran lunga il Dileon che a me fa impazzire però sono fatti tutti e due bene e il one seven uno se lo deve godere per le gimmick che hanno dentro veramente un casino per quanto riguarda il Dileon no se lo gode per lo scalp è diverso sono entrambi pieni zeppi di metallo il Dileon pesa 475 grammi questo ne pesa 420 comunque sono tutti estremamente pesanti che dire questa recensione direi che finisce qua magari in futuro farò una recensione per farvi vedere tutte le gimmick di questo one seven grazie per la visione e alla prossima grazie ci vediamo ancora su Destiny Empire ciao ciao ciao